Sopraluogo dell'ANAS, sulla strada statale Sette Terche, congiunge San Giorgio Ionico a Monteparano, esattamente nella intersezione con Carosino e Roccaforzata. A seguito della richiesta di confronto inoltrata nei giorni scorsi dal sindaco di Carosino Nofrio di Cillo, proprio all'ANAS e dalle parti interessate a mettere in sicurezza il pericoloso incrocio, l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade è intervenuta. Chiarezza sulla competenza delle parti, interventi immediati per evitare il verificarsi di altri incidenti, illuminazione e segnaletica sono stati oggetto di confronto. Presenti i sindaci Mino Fabiano, Giuseppe Grassi, Roberto Iacca e Donofrio di Cillo, che ha radunato le parti sul posto. Abbiamo necessità di tutelare i nostri cittadini, ma tutti gli automobilisti che passano da questa parte, l'ANAS ci ha dato un'immediata disponibilità ad affrontare almeno la questione in tempi brevissimi per quello che riguarda i piccoli interventi che si possono fare per poi fare una programmazione. Ovviamente come sindaci abbiamo dato la massima disponibilità. I cittadini chiedono però a gran voce la realizzazione di una rotatoria sparti traffico in luogo dell'incrocio. Anche questo quesito è stato sottoposto all'ANAS. Guardi, l'ANAS ci ha detto che non la può realizzare in tempi brevi, ma è un programma a lungo termine. Ci ha parlato di un programma pluriennale. Nell'immediato abbiamo fatto delle ipotesi, ovviamente, che l'ANAS terrà in conto. Abbiamo chiesto di potenziare la segnaletica e magari mettere anche dei led luminosi affinché si percepisca che quando si arriva in questo tratto c'è qualcosa di peregricoloso e di fare attenzione.